Sono giorni come questi che rimangono da dentro dei tifosi e dei giocatori, i giorni in cui si fa la storia possiamo dirlo, sono i campioni. E' per me una grande emozione condividere questa gioia con i tifosi, la tua sfera intorno allo stadio si è immagina, ma non ha meritato di vincere questo club. Dato uno sguardo a quello che succede in campo, che è festa, intorno allo stadio è gioia pura, potete soltanto immaginare quanto questo possa contare per la squadra. E' davvero tutto, grazie per avermi accompagnato in questo viaggio, in questa grande strada di sport, a Giordano Taffini, un saluto e un ringraziamento, rimanete con il grande calcio di PES.